Ciao a tutti, io sono Alessandro e benvenuti a colazione con Piazza. Il video di oggi è un video che è pieno di ricordi, almeno per me. È incredibile a volte come la nostra mente, il nostro cervello, possa fare uno scatto incredibile in un determinato momento della propria vita, portando alla luce e a galla dei ricordi che era davvero tanto, tanto che erano sepolti. Ricordi che magari erano lì, erano lì fermi e basta veramente una piccola situazione, una piccola cosa e questi ricordi subito saltano in testa. Mi è successo già una cosa di questo tipo in passato, purtroppo sempre per non belle situazioni, ma per delle brutte situazioni, dove è bastato poco, è bastato pochissimo per far tornare in mente incredibili ricordi. Quest'oggi quello che è successo è relativo alla notizia di ieri, notizia che è morto dopo una lunga malattia il cantante e cantautore Franco Mattiato. Cantante che negli anni io ho amato e odiato, nel senso che ho amato quando ha prodotto degli album e delle canzoni bellissime, fantastiche, che toccano davvero le corde dell'anima, e un po' più odiato in quanto il mio essere un pochettino pop, nel senso di prediligere la musica che non faccio troppa fatica a pensare e non faccio troppa fatica a interpretare e a capire rispetto alla musica appunto popolare, dove riesco a capirla, riesco ad analizzarla, mi piace il contenuto, mi piace la musicalità, eccetera, eccetera. Ripeto, è una questione proprio prettamente pensata. Franco Mattiato negli anni ha avuto questa particolarità, si è sempre distinto da altri cantautori per la ricerca continua del qualcosa di diverso rispetto agli altri, non perché fosse una persona che tendeva a stare sopra alle righe, ma semplicemente proprio perché era fatto così, cioè lui era un innovatore, era uno sperimentatore, era un maestro che cercava sempre sempre qualcosa in più da quello che produceva, molto autocritico, molto selezionatore per quanto riguarda anche i partner musicali e soprattutto anche nella sua vita, infatti la sua lunga malattia è stata da tanti, vista precedentemente l'isolamento che ha avuto lui dal mondo pubblico, ma è sempre negato da familiari e comunque anche da amici, perché era così, c'era una persona molto schiva, molto riservata. Ricordo ancora nel 1981, e questo me lo ricordo, e questo è la particolarità di questa cosa, all'epoca dell'album La Voce del Padrone, che ha lanciato tra l'altro in Italia brani come Summer on a Solitary Beach, di Uccelli, Bandiera Bianca, cioè ha lanciato davvero dei brani fantastici, quell'album è un album che credo sia il top proprio della sua produzione a livello di carriera. Era 1981 e ancora lo ricordo, io al piccolo avevo poco meno di 11 anni e già tra i compagni di classe, quindi prendiamo delle medie, già si parlava di questo cantante, questi brani, questa musica che si sentiva comunque anche nelle radio, con i giradischi, eccetera. Ma Franco Battiato non è nato lì, non è nato nel 1981, è nato molto prima, ha avuto collaborazioni con tantissimi, tantissimi cantanti italiani e anche stranieri, ma per tornare alla memoria di come è nata questa sua particolare vita, dobbiamo tornare indietro nel tempo, tornare indietro negli anni dove lui da piccolo paese del sud, dopo la morte del padre, con la madre si è spostato al nord, si è spostato a Milano. È andato a vivere a Milano con la madre dove da lì è cominciata tutta la sua salita verso la carriera musicale. Ha avuto la fortuna di essere in un tempo dove frequentare gli ambienti dove praticamente bolliva la cultura milanese, parliamo di cultura a livello sia di cabaret che anche di musica, lo ha portato praticamente a conoscere davvero tantissime persone. Lì ha conosciuto, ha avuto rapporti per molto tempo con Renato Conzetto, con Riannacci, con persone che praticamente lo hanno avuto come amico e lo hanno comunque seguito quotidianamente in quello che lui faceva. Ha avuto la fortuna di collaborare e scrivere brani per un album intero di Milba che tra l'altro anche lei è recentemente scomparsa. Ha avuto la fortuna di avere contatti con tantissime persone ma era proprio quello il periodo, dagli anni 60 agli anni 70-80 sono stati gli anni proprio boom per questo tipo di cose in Italia, soprattutto nella zona di Milano, quindi nella zona della di Milano. Ha scritto anche a quattro mani brani che hanno segnato veramente un'epoca. Pensate a Un'estate al mare di Giulio Russo che ha letteramente spopolato e sconvolto un'estate italiana dove in pratica ovunque si andava si sentiva, ovunque ti giravi la sentivi, accendevi la radio la sentivi. È stato un brano che ha davvero calcato le onde su mesi e mesi estivi di questo brano che poi ha fatto conoscere Giulio Russo in tutta Italia. L'hanno scritta lui con un altro autore, Giulio Russo l'ha cantata e è stato davvero davvero un successo e credibile. Ma veniamo al mio ricordo perché vi ho portato questa cosa, perché la vita è fatta anche di piccole situazioni e piccole fortune. Io ho avuto e ho la fortuna di avere un background musicale non direttamente mio, nel senso che non sono io che ho avuto la fortuna di scoprire da solo musicisti e cantanti, ma ho avuto la fortuna di avere un parente molto vicino a me, un cugino, che da giovane, fin da giovane all'età di 16 anni, ha sempre cantato, suonato in una band musicale, una band di cui non vi farò il nome in questo momento, una band dove lui ha avuto la fortuna di anche scrivere brani musicali, di produrre dei dischi, esattamente due per l'esattezza, di cui io uno sono letteralmente innamorato quanto lo ascolterei ancora oggi ore e ore perché è davvero un brano bellissimo, sono delle canzoni stupende, davvero belle, e quindi lui ha avuto la fortuna, avendo comunque anche la possibilità all'epoca di frequentare un ambiente elevato rispetto allo standard di quell'epoca, quindi parliamo degli anni 70-80, dove lui ha conosciuto direttamente cantanti all'epoca, cantanti diciamo dell'ambiente musicale più o meno tranquillo, ma che oggi sono pezzi da 90, ad esempio ha conosciuto e frequentato per molto tempo Renato Zero, ha conosciuto e frequentato per molto tempo Franco Battiato, ha conosciuto e frequentato per tempo Bennato, quindi parliamo di nomi di un certo livello. Io personalmente ho avuto modo da piccolo, ma molto piccolo, parliamo di 6-7 anni, di vedere, non conoscere, ripeto, vedere lui con Renato Zero che parlava e cantava e facevano cose, ho avuto la fortuna di vedere lui con Battiato che stavano appunto anche lì collaborando per un brano, per una produzione, sempre parliamo del fine anni 70, quindi un 78-79 quegli anni lì, quindi prima ancora dell'esplosione di Voce del Padrone e quindi di tutti gli altri brani di cui abbiamo parlato prima. E quindi questa cosa mi ha portato questo ricordo di me piccolino che mi arrivava questa notizia del se vieni guarda che c'è questa sera qui a mangiare la pizza a casa Battiato, sai quello che ha scritto quella canzone, e io che purtroppo la mattina mi dovevo alzare molto presto per prendere il mio motorino per andare a scuola a 16 km da dove abitavo, all'epoca mio padre mi disse giustamente, ascolta, non possiamo andare già tardi, sono le 8 e mezza, 9, tu tra un po' devi andare a letto, non possiamo in questo momento andare, lo vedrai la prossima volta, ovviamente non è più successo, non è più capitato la fortuna di poter incontrare e vedere l'artista, anche perché poi le strade ovviamente hanno preso strade diverse, quella di mio cugino e quella di Battiato e Bennato, e quindi niente, praticamente questo incontro non è più avvenuto, anche se loro so che si sono frequentati a livello di gruppi musicali e di autori per un bel po' di tempo. e quindi questa cosa mi ha innescato questo ricordo, molto dolce, molto particolare, ma semplicemente perché un bambino che a scuola parla di queste cose con i propri compagni di classe, ovviamente i compagni di classe non gli credono perché è come se io oggi un bambino mi dice, ah sai che io ieri sera sono andato a mangiare la pizza con, mi lancio un nome, Fedez oppure sono andato a mangiare la pizza con Biagio Antonacci, uno ci può anche pensare ma tra bambini sicuramente queste cose vengono comunque ironizzate, scherzate, eccetera, ma era successo anche questo, pochi credevano al mio poter aver avuto anche indirettamente un contatto con all'epoca questi pig che stavano esplodendo nella musica diciamo in Italia, però ripeto sono ricordi belli, sono cose che uno si porta dentro ed è per questo che è molto bello penso avere il collegamento tra la memoria, l'infanzia e comunque delle piccole cose anche purtroppo a volte brutte tipo la morte di Battiato su questo tipo di pensieri. detto questo io vi saluto come sempre, vi ricordo se non l'avete ancora fatto di mettere qui sotto mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che vado a produrre e fare, compresi anche questi a volte piccoli monologhi in merito ai ricordi. Voi avete mai avuto ricordi legati a qualche situazione particolare? Se sì lasciatemi qui sotto un messaggio e intanto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!